Sono Simona Liguori, sono un'oncologa e vi porto la mia esperienza nell'ambito del trattamento del dolore in cura domiciliare. In quanto da quasi dieci anni, lavorando per un'azienda territoriale della provincia di Udine, mi occupo proprio di curare il dolore nei pazienti in fase avanzata di malattia, quando purtroppo tutte le cure che noi stiamo facendo per combattere il tumore non sono andate a buon esito. La persona è una persona in cura domiciliare, quindi i nostri utenti, i nostri pazienti chiedono soprattutto di essere liberati dal dolore. Quando noi li andiamo a trovare nelle case, oltre a chiederci appunto di avere delle informazioni sulle terapie del dolore che noi andiamo a farli, che andremo a farli, in questo senso noi provvediamo anche a tranquillizzarli, perché sapete benissimo che terapia del dolore non vuol dire essere intontiti dai farmaci, ma terapia del dolore significa avere una vita di qualità, una vita che senza dolore merita di essere vissuta, magari servendoci di farmaci quali o piace, per i quali possiamo assumere sotto diverse forme. Una vita, dicevo, di qualità. Vita di qualità per i nostri ammalati significa soprattutto essere in grado di stare con i propri cari, di fare le attività di vita quotidiana, magari pensare il giorno dopo di star bene, di stare in forza perché viene un nipotino a trovare la persona, ma facciamo assistenza anche nelle case di riposo della nostra azienda territoriale, della Medio Friuli, entrando nelle case di riposo che accolgono tanti anziani, anziani che magari hanno un tumore e hanno anche un dolore cronico degenerativo. Sono persone alle quali merita assolutamente fare terapia del dolore, liberare dal dolore, magari anche con piccole dosi di oppiacei, di farmaci del dolore, che non devono assolutamente spaventare, anche nella persona ultraottantenne. È corretto 80 anni essere liberati dal dolore, magari ad un dolore mal di schiena, un dolore d'anca, un dolore che impedisce alla persona di camminare. Liberare dal dolore significa dare giorni di vita a queste persone, perché sappiamo quanto sia importante, soprattutto nella terza e quarta età, avere comunque vita ai propri giorni.